Le oncille e Lucio Fontana hanno ripensato la scultura ceramica offrendo nuove possibilità e nuovi orizzonti alle generazioni successive. Arriva all'essenzialità della materia quando raggiunge il massimo della sua maturità estetica. E con Leoncillo lo scultore che utilizza la ceramica non è più ceramista. Leoncillo Leonardi Nasce a Spoleto nel 1915 e rimane orfano di padre ad appena tre anni. Vive un'infanzia difficoltosa, viene messo in collesio dalla madre che deve gestire anche altri due fratelli. Questo abbandono iniziale segnerà il resto della sua lunga carriera artistica. Tant'è che Leoncillo appunto diverrà uno dei protagonisti della scultura anche esistenziale degli anni 50 e 60. Ma gli esordi sono degli esordi sull'impronta dell'espressionismo. Nel 1936 segue il fratello più grande a Roma e ha l'occasione di entrare in contatto con un cenacolo artistico della capitale che è tra i più importanti. Quello che si riunisce attorno al poeta Libero de Libero e all'artista Corrado Cagli sotto l'insegna della galleria La Cometa, sostenuta dalla contessa Pecciblant. In questo contesto il giovane Leoncillo non è ancora lo scultore che sarà da lì a pochi anni, ma apprende, vive in contatto con colleghi artisti, con scultori come Mirko, pittori come Afro, Basaldella, Guttuso e anche appunto intellettuali come Cesare Brandi che frequentano questo cenacolo artistico. E si appassiona quello che è l'espressionismo romano degli anni 30, quello che era stato l'insegnamento di Scipione e di Mario Maffai. Da questa prima inseminata nascono in qualche modo i primi disegni e anche le prime lavorazioni plastiche. I primi disegni che sono caratterizzati essenzialmente da uno studio, lo studio sui volti, lo studio sul corpo, che diventerà centrale nel percorso artistico di Leoncillo. Un corpo è un disegno che viene appunto realizzato con una, come dire, mano tremolante quasi, con un segno serpentinato, nervoso. Lo stesso segno che si ritroverà poi nelle prime sculture. Le prime sculture sono del 38-39, quando fugge da Roma e si rifugia nella provincia Umbra, non più a Spoleto, ma ad Umbertide, dove incontra la futura moglie, Maria Zampa, e avrà l'occasione di realizzare in qualche modo il sogno di modellare effettivamente la creta, ma soprattutto di entrare in contatto con la ceramica. In questo senso sarà un protagonista assoluto della ceramica della seconda metà del Novecento, in quanto appunto, grazie anche all'esperienza che matura ad Umbertide, alle ceramiche rometti acquisirà quella competenza per la scultura colorata. Una delle opere che realizza in quei momenti è questa cariatide, una cariatide che è progettata nel 1942 e realizzata in più esemplari per l'Espo Universale, che appunto si doveva tenere a Roma, ma che poi fu bloccata dall'avanzare del fronte bellico. La caratteristica già di questa opera è proprio quella di unire il colore alla materia plastica. Vedete che è una materia che si scioglie, è una materia espressionista, ma anche preziosa, non è più la materia povera di Arturo Martini, ma diventa una materia nobile, ricca, nobilitata appunto da questi riflessi dorati, da questi azzurri così intensi. Questo è, diciamo, come dire, il passaggio che fa conoscere Leoncillo appunto tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40. Diventa famoso per questi smalti così colorati, per questi smalti così accesi, tant'è che un critico dell'arte, forse il critico dell'arte più importante di quel periodo, Roberto Longhi, quando scriverà la prima monografia di Leoncillo del 1949, ricorda, lo chiamerà addirittura patetico barocchetto spoletino, proprio per questo gioco di luci, di colori, ma anche per questi panneggi così movimentati che avvolgono la figura, avvolgono un corpo. Questo corpo è un corpo che in qualche modo tende a sciogliersi, non è più monumentale, non è più così denso e stabile come erano appunto i protagonisti degli anni 30, degli anni 40, ma diventa un corpo fluido, un corpo che in qualche modo sembra quasi sciogliersi nella materia. Nel 1944 Leoncillo sente di dover prendere una posizione anche politica, diventa partigiano, inizia a fare in qualche modo la staffetta tra Roma e Perugia e si esposa a quella che è la causa comunista, tant'è che proprio nel 1944 vincerà anche uno dei primi premi che verrà realizzato a Roma dal Partito Comunista e sponsorizzato dal giornale L'Unità che si chiama Arte contro le Barbarie e vincerà il primo premio con un'opera simbolo, un'icona di quel periodo che è Madre Uccisa dai Tedeschi. È l'inizio dell'ideologia che cattura in qualche modo Leoncillo e che perdurerà almeno fino al 1956. In questo periodo la sua arte si trasforma dall'espressionismo in cui in qualche modo l'espressione materica e cromatica così fluida era protagonista acquisisce un nuovo linguaggio, complice anche alla conoscenza di Picasso, complice anche allo studio delle opere di Picasso che arrivano in Italia nella Biennale del 1948 e poi nel 1953 appunto con la grande mostra all'Agnam di Roma. Come Leoncillo reinterpreta il post-cubismo è indicativo da questo disegno qua, che è il disegno del ritratto di Mary appunto in cui costruisce per elementi geometrici astratti va a costruire quelle che sono le parti di una figura, le composizioni di una figura giocando appunto su elementi di luce e ombra. Mary viene in qualche modo tradotta magistralmente in questa opera qua. Questa è la traduzione appunto plastica del disegno che abbiamo visto prima è del 1953 e ritrae appunto Miss Olanda, che è stata anche la compagna di Leoncillo per un certo momento. E la trascrizione appunto di questa composizione astratta giocata su lusi e ombre è evidente nell'uso cromatico che Leoncillo fa. Voi vedete appunto, immaginatevi come un fascio di luce va a colpire la parte destra del volto di Mary che viene appunto chiarita, viene in qualche modo messa in luce mentre invece la parte in ombra è la parte in cui i toni si fanno più bruni, si fanno più scuri. Il tutto costruito appunto per elementi, elementi geometrici, irregolari, astratti che vanno a comporre l'immagine di Mary. Ecco, questa è l'interpretazione che Leoncillo dà del cosiddetto cubismo o meglio il secondo cubismo che in ambito critico viene identificato sia come neocubismo o post-cubismo. L'altra caratteristica saranno i temi sociali di Leoncillo. Leoncillo affronterà appunto lungo il corso degli anni 50 temi come il minatore oppure la dattilografa e sono tutti temi che in qualche modo abbracciano quella che è una certa ideologia di sinistra e che sono in qualche modo anche sponsorizzati, però lo fa in un modo non più realistico ma abbinando astrazione e figurazione in una formula rinnovata appunto del post-cubismo italiano. Perché mi emoziono davanti a quest'opera? Veramente è un'opera molto interessante e quando l'ho vista l'erede di Leoncillo è una signora che vive a Umbertide, è la nipote e mi dice ma questa non gliela posso dare professore perché questa è una cosa molto delicata e quindi insieme ad altre due opere dice questa non gliela posso dare. Signora guardi io siccome sono anche un esperto di arte culinaria quando si viene a fama le offro un pranzo di pesce questa è un'opera troppo bella, non solo ma si chiama Mary come mia madre e quindi è una cosa straordinaria la bellezza cubista, un po' picasiana di Leoncillo però con un tocco di colore estremamente inedito, originale. Ecco, Leoncillo in questa mostra emerge in tutto il suo contesto attraverso il segno, il disegno Leoncillo da leone, Leonardo da leone, quindi due leoni in un nome. È una cosa straordinaria. Nel 1954 Leoncillo riceve un doppio incarico per realizzare due sculture monumentali in due luoghi diversi una è la partigiana veneta a Venezia che subirà una serie di ripensamenti continui da parte di Leoncillo e addirittura la scultura sarà una prima volta rispinta e poi addirittura negli anni 60 sarà fatta saltare da un attentato anarchico quello che dava fastidio era il fazzoletto rosso della partigiana veneta che era appunto il soggetto della scultura di Leoncillo. Nel 1954 però riceve anche un'altra commissione dal comune di Albissola per allestire, per realizzare il monumento ai caduti del mare appunto sulla passeggiata. Sono due commissioni che, come dire, tormentano l'animo di Leoncillo. Perché? Perché sta cambiando, sta vivendo un momento di transizione che sforcerà poi due anni dopo. Il monumento di Albissola in questo senso è emblematico. Infatti impiegherà alcuni anni per realizzare questo monumento e nel mentre lentamente andrà maturando un'esperienza linguistica diversa. Il monumento di Albissola è qui rappresentato dal bozzetto che, come dire, descrive solo una parte, in realtà, del monumento, dei sopravvissuti. L'altra parte invece sono i naufraghi del mare in cui Leoncillo appunterà sul suo diario proprio la scena che si configura davanti di questi corpi che vengono ripescati in mezzo alla terra e che si identificano con la terra. È un passaggio nodale. Ritorna anche qui il corpo di Leoncillo, il corpo che ha sempre attratto l'artista. Nel 1956 inaugura appunto questa scultura e però nel 1956 succede anche un fatto politico importante. C'è l'invasione dell'Ungheria da parte della Russia e la crisi di coscienza di molti intellettuali comunisti, come era Leoncillo, che abbandonano il partito, abbandonano l'ideologia. Bene, questo è un passaggio importante. L'abbandono del partito comunista significa per Leoncillo abbandonare non solo un pensiero a cui si è tenuto fede per più di un decennio, appunto dal 44 fino al 56, ma anche e soprattutto abbandonare un linguaggio, un linguaggio che era fatto appunto di colore, di smalti che si sovrapponevano alla terra. Quando Leoncillo decide di prendere questa decisione, lo farà chiaramente in forma sofferta, ma anticipando il passaggio successivo. Nel 57 realizza una mostra alla Galleria La Tartaruga di Roma, in cui espone improvvisamente altri temi, non solo più il corpo figurativo, che aveva caratterizzato in qualche modo del percorso dell'artista fino ad oggi, ma diventerà il corpo natura. Tant'è che appunto abbiamo queste sculture, una di queste, in questa mostra appunto, che è stata esposta alla Galleria La Tartaruga di Roma nel 57, una mostra in cui Leoncillo si autopresenta, non chiama nessun critico per presentarsi, ed escrive appunto tutta la sua sofferenza nell'avere abbandonato il partito comunista e quel linguaggio fatto di appunto colori vivi, di temi sociali, per in realtà dire io mi rifugio in questo momento nella natura, mi rifugio in dei rami, mi rifugio in dieci spugli. Lentamente vedete che c'è ancora un colore, un colore però raggelato, bianco, e la superficie dell'opera è caratterizzata da questi segni materici che vanno sempre più a incalzare, appunto a scavare la materia. Lui dirà per adesso faccio dei rami, faccio questi, faccio delle cose naturali, faccio i cespugli come può essere questo disegno qua materico che è del 58, poi dirà non mi fermo qui, farò altro, farò altre cose. Le altre cose preludono appunto a un passaggio successivo che arriva nel 1958 con un'altra mostra, che è la mostra appunto curata da un grandissimo critico come Francesco Arcangeli, critico dell'ultimo naturalismo e in qualche modo anticipatore di quello che è il filone dell'informale italiano. Questa fase qui appunto sarà il preludio alla fase informale di Leoncillo. Io ho fatto scultura a Roma con Fazzini, prima ancora con Mannucci e poi con Guttuso che gravitava lì a Roma nell'ambito dell'Accademia e poi con Manzù, greco, i più grandi scultori italiani. Beh, Leoncillo è l'inedito in Italia. È l'inedito perché? Perché la bellezza del colore di questa materia che si sviluppa con una facilità e con una bellezza materica, quindi formale, è straordinaria. E quindi dopo tanti anni di ricerca e di trovare la possibilità di avere Leoncillo a Fano, ecco questa è stata la mia grande soddisfazione, quella di trovare questo bellissimo numero di opere che ripercorrono tutto il tragitto estremamente originale e inedito di questo grande autore. Per Leoncillo l'idea del corpo potremmo dire sia fondamentale in merito alla sua poetica e anche alla sua pratica scultoria. Intanto perché il corpo è la carne, la creta, la creta, carne mia, come scriveva Leoncillo nel piccolo diario, che sente, soffre, sulla quale lo scultore può trasmettere i segni della vita, come fosse un vero e proprio diario, una pagina di carne e di materia su cui l'artista incide il suo essere, la sua esistenza. E indubbiamente il corpo di Leoncillo, soprattutto il corpo della scultura del periodo informale, è un corpo drammatico, è un corpo tragico, un corpo che quasi si fa carico di quelle che sono anche le sofferenze, gli stati d'animo, di ansia, di tortura psichica, a cui Leoncillo si sottopone nel momento stesso in cui lavora con la sua virulenza, fremenza, forza e intensità alla materia. Sempre nel piccolo diario Leoncillo parla di questa attesa, spesso di fronte al momento di cottura della scultura, frenetica per il risultato che poteva scaturirne, ma anche piena di incognite, di enigmi, perché la cottura della creta non dà mai certezze. Però soprattutto non era soltanto una questione di materia questa tragicità e sofferenza del corpo, della scultura di Leoncillo, ma anche di contenuti. I titoli delle sue sculture del periodo informale raccontano di ore di insonnia, sono pietà, sono sansebastiani, sono corpi dolenti, sono sculture a metà tra crocifissioni, erme prive di testa, prive ovviamente di arti, che rappresentano in maniera, se vogliamo, anche simbolica, quello che è il processo e il modo di Leoncillo di vivere la scultura. E indubbiamente attraverso proprio questo corpo dolente che avviene un po' la rivoluzione di Leoncillo, il quale identifica forse più di tutti gli artisti del secondo dopoguerra italiano, solo burri potremmo accostarlo in tal senso, ma Leoncillo identifica il corpo dello scultore con la materia che lavora, che modella, che cuoce, che taglia, che buca, queste sono le sue parole, che dispone nello spazio spesso a pavimento o anche a parete, non solo come figura statuaria. E in tal senso appunto Leoncillo nel secondo dopoguerra italiano è forse l'unico artista che riesce ancora a mantenere un moncone di corpo, di corpo umano, senza fare il salto nella vera e propria astrazione che lui del resto aborriva, con la quale si intratteneva in numerose discussioni, ad esempio con Scialoia, sul concetto di orma e di impronta. Diceva Leoncillo, l'impronta sì, ma l'impronta deve essere mia, non deve essere un'impronta astratta. L'idea del corpo che diventa anche paesaggio, non dobbiamo dimenticare che il corpo di Leoncillo è un corpo minerale, perché la creta è una materia che viene dal terreno, è una materia fatta friabile, assolutamente naturale, di cui sono costituite le balze, il paesaggio naturale. Quindi Leoncillo immaginava anche, l'ho anche detto, ma lo vediamo anche in alcune sculture che ritraggono figure sdraiate, che in realtà sono anche contorni di colline, contorni di montagne. E questa identificazione tra il paesaggio naturale e il corpo umano e, come abbiamo già detto, la creta, la materia, penso sia una sorta di contenuto panico con il quale Leoncillo identificava il processo scultorio con un processo naturale. Lui stesso parlava di altra natura, di seconda natura in merito alla sua scultura, non perché dovesse riprodurre una natura diversa, ma perché la sua scultura doveva impossessarsi di una serie di principi poetici che la natura e la materia producono inconsciamente, semmai si possa parlare di coscienza della natura, mentre invece Leoncillo lo faceva in maniera assolutamente intenzionale. Qual è un'altra riscoperta del nostro territorio? È la chiesa di San Silvestro in piazza. La chiesa è stata ricostruita dopo la guerra. È stato chiesto a Leoncillo di realizzare un'opera, un altare. E lui ha realizzato questa ceramica dei quattro evangelisti all'interno di questa chiesa. Tutte le sue sculture, i suoi collage, disegni, anche laddove sembrano realizzate secondo un impeto esistenziale, frenetico e inconscio, in realtà sono maturate dopo lunghe ore di riflessione, anni di pensieri tradotti in scrittura, ma tradotti anche in scultura. La notte di Leoncillo, come lui stesso diceva, la notte in cui come un ragno che si avvolge nella sua ragnatela, nel suo bozzolo. È una notte d'insonnia perché è una notte creativa. Ecco, il corpo di Leoncillo non è mai un corpo solare. La presenza del nero, la presenza del colore della terra è evidente. È un corpo terrestre, è un corpo magmatico, ma è un corpo che indubbiamente, pur non preludendo mai alla resurrezione, semmai al presagio, per certi versi al miracolo della vita, è un corpo che identifica totalmente la figura dello scultore con la materia a cui, dando forma, in qualche maniera lo scultore stesso, dalla forma stessa del suo essere inconscio. Dal 1958 la scultura di Leoncillo cambia completamente linguaggio, esposa quello che sono le istanze dell'informale. Supportato appunto dalla spalla critica Francesco Arcangeli, che lo presenta alla Galleria Lattico, Arcangeli sottolinea come il passaggio dal post-cubismo alle istanze informali sia per Leoncillo un riversare nella propria creta, nella propria opera, nelle proprie opere, anche nelle proprie carte, i propri stati d'animo, il proprio sentire interiore. E in effetti Leoncillo questo farà la terra, la creta, non sarà più semplicemente terra, ma diventerà simbolo, emblema del proprio corpo, dove riversare appunto quelli che sono le tensioni di una vita tormentata, come è stata quella appunto dello scultore spoletino, e in cui reinventa sostanzialmente una grammatica visiva della scultura. Sposando l'informale ha la possibilità di abbandonare una figurazione, esplicita quantomeno, e lavorare appunto sulla materia, sulla materia terra, che viene ripulita da tutti i smalti, come in questa scultura che è del 65, come donna al sole appunto, che ritrae una donna al sole. Ecco, la grammatica visiva di Leoncillo si trasforma in questo senso. Si stravolgono i canoni e soprattutto risente di quella che è uno stato d'animo. Già a partire appunto dal 58-59, Leoncillo appronta il disegno non più con la penna, non più con il materiale cromatico, ma appronta il disegno appunto strappandolo, ricomponendolo appunto in elementi di collage. Il tutto appunto per descrivere quello che prova in quel momento. La vita di Leoncillo si conclude in questo disegno sposando, abbracciando questa nuova grammatica visiva appunto. E si conclude nel 68, che è un anno emblematico, perché è un po' l'anno di chiusura di questa prima parte del Novecento, è l'anno della contestazione studentesca, è l'anno anche della contestazione alla Biennale di Venezia. Leoncillo sarà presente in quella Biennale ed esporrà opere come queste. Aderirà alla contestazione, perché appunto come molti artisti invitati al tempo, celerà con un drappo appunto le proprie sculture impedendone la visione. Era un modo per aderire alla contestazione. Sarà l'ultimo atto, l'ultimo gesto di questo scultore, che per Cesare Brandi era il terzo scultore italiano più importante. Pochi giorni dopo aver coperto le sue sculture, a settembre, appunto in un settembre drammatico per la scultura italiana, Leoncillo muore improvvisamente. È un settembre drammatico perché nel giro di pochi giorni, a distanza di una settimana l'uno dall'altro, se ne vanno tre protagonisti. Uno appunto è Leoncillo, l'altro è Lucio Fontana, che era il più anziano di tutti, ma era un altro protagonista di questa stagione. E il terzo, in realtà, era l'avvenire della scultura italiana, ed era appunto Pino Pascali, che morirà tragicamente in un incidente. Leoncillo, in qualche modo, ha abbracciato tre momenti significativi, quindi dagli anni, fine anni 30, inizio anni 40, in cui il suo espressionismo, come dire, scioglieva quelli che erano gli elementi plastici della scultura, inserendoli con il colore, un colore ancora smaltato, passando poi dal dopoguerra, in quella che è stata la stagione del post-cubismo, e abbracciato appunto all'ideologia comunista, quindi, come dire, cercava di rinnovare la scultura italiana, unendo astrazione e figurazione con dei temi sociali, e poi l'ultima parte, l'informale, dove entra, torna in un stato d'animo intimo, in cui a parlare sostanzialmente è la materia cruda, la materia priva di colore, che trasferisce appunto lo stato, il sentire interiore di un artista, che è stato sicuramente tra i più importanti in Italia del dopoguerra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.